Ue Organizzazione Internazionale Nata il primo novembre 1993 Tre ragazzi Un liceo Un viaggio tramite il progetto Erasmus Che ha permesso loro lo scambio e il confronto con altri studenti europei Ha fatto conoscere loro nuovi posti e differenti culture Attraverso lavori, giochi e progetti Le ha portati alla scoperta e alla conoscenza di loro stessi, degli altri e della diversità Un'esperienza che ha arricchito il loro bagaglio, di nuove amicizie e nuove emozioni Ha donato loro la consapevolezza di essere tutti cittadini di un'unica grande casa Unione europea Unione europea Unione europea Unione europea